Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi un video un po' diverso dal solito per quello che riguarda il mio canale, siamo in un video di pesca però fatto in una maniera diversa dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti commentate qui sotto se vorreste altri video del genere e se vi possono piacere e cosa ne pensate ovviamente e mi raccomando ragazzi subiamo 80 like per questo video così mi fate capire che ne vorreste degli altri non fate quelli del bloccino corto mi raccomando e dunque direi via con il video buono prima volta in questa zona primi lanci sul nuovo spot che pare molto interessante per la ricerca, oh ho sentito qualcosa, forse agli o forse anche un cavedano molto bello come spot ok Ok, andiamo avanti. Grazie a tutti. 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 Come terminale un boss dello 018 BOS, fluoro, carbon e trecciatino viral dello 008, la taglia più piccola. E poi di media da 1,5 grammi, 1,98 m, 1,98 m e Drex 2000. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo un po' sul fondo. E' un po' più piantato, eccolo qua. E' un po' più piccola. E' un po' più piccola. Grazie a tutti.